Il sistema di terapia a pressione negativa Avanzo l'Adapt è progettato per fornire una terapia a pressione negativa efficace e sicura per un massimo di 14 giorni. La seguente animazione è una breve guida alla configurazione e all'uso del sistema. Iniziare collegando il canister alla parte inferiore della pompa. Per fare ciò bisogna allineare l'apertura della parte superiore del canister al tappo che sporge dalla parte inferiore della pompa. Una volta allineata premere i due elementi l'uno contro l'altro e quindi fissare il tubo del canister spingendo nel morsetto a strozzatura sul retro della pompa. Quindi capovolgere la pompa e rimuovere lo sportello del vano batteria facendolo scorrere verso l'alto. Inserire due delle batterie AA fornite con il sistema prestando attenzione a orientare correttamente i poli delle batterie. Ora ricollocare lo sportello del vano batteria. Quando le batterie sono inserite correttamente le pompe eseguono un'auto verifica automatica. Durante la modalità di auto verifica la pompa si attiva per un breve periodo. Tutte le spie luminose lampeggiano in sequenza e la pompa emette avvisi acustici prima con un tono a media frequenza poi con un tono ad altra frequenza. In questo modo si completa l'auto verifica. Una volta completata l'auto verifica la pompa rimane in pausa fino all'avvio. Quindi prima di applicare la medicazione pulire la ferita e la cute per il lesionale avendo cura di asciugare la cute per il lesionale. Per riempire le cavità della ferita tenersi a distanza dalla ferita per evitare che dei frammenti possano cadere nella ferita. Tagliare la schiuma van solo ad apt secondo la forma della ferita in modo che si adatte alla cavità senza sovrapporsi alla cute per il lesionale. Ora valutare la ferita e la cute circostante per decidere se bisogna tagliare la medicazione in film ed effettuare quindi questa modifica prima di rimuovere la pellicola protettiva dalla medicazione in film. Assicurarsi di lasciare un margine di 4-5 cm sulla cute per il lesionale. Rimuovere la pellicola protettiva dalla medicazione in film iniziando dalla parte centrale e una volta rimossa orientare la medicazione in film sopra la ferita. Una volta applicata la medicazione in film è possibile rimuovere le due parti rimanenti della pellicola protettiva facendo attenzione a spianare piaghe o grinze. Prima di collegare la porta di trasferimento è necessario praticare un foro nella pellicola. Il foro non deve avere un diametro maggiore ai 2 cm. Ora rimuovere la pellicola protettiva dalla parte inferiore della porta di trasferimento, individuare la porta sul foro creato nella pellicola e applicare. Spianare intorno ai bordi della porta di trasferimento per assicurarsi che abbia una buona tenuta. Collegare il tubo della porta di trasferimento al tubo del canister collegando i connettori verdi che si inseriranno in un solo orientamento. Verificare che i due morsetti non siano chiusi. Per avviare la terapia premere e tenere premuto il pulsante verde per due secondi. Si sentirà la pompa attivarsi e si vedranno le luci del pulsante di avvio pausa lampeggiare all'unisono. È inoltre possibile osservare la contrazione della medicazione non appena viene creato il vuoto. La medicazione in film apparirà leggermente ragrenzita e risulterà salda al tatto una volta ottenuta la pressione negativa. In caso di perdite durante l'applicazione e nel caso in cui non sia possibile creare la pressione negativa il dispositivo attiva un allarme relativo alla perdita. La spia luminosa relativa alle perdite d'aria lampeggerà una volta al secondo e la pompa entra in modalità pausa. In questo caso sistemare la medicazione facendo attenzione a rimuovere eventuali grinze del bordo della medicazione prima di riavviare la pompa. Una volta raggiunto il vuoto e durante il normale funzionamento il pulsante verde lampeggia due volte al minuto per indicare che il sistema funziona correttamente. Per sostituire il canister bisogna prima mettere in pausa la pompa premendo il pulsante verde per due secondi. La pompa emetterà due brevi avvisi acustici per confermare che è in modalità pausa. Gli avvisi acustici si ripetono ogni 15 minuti fin tanto che la terapia è in pausa. Quindi far scorrere i morsetti del tubo verso l'alto vicino ai connettori verdi e spingere entrambi i morsetti lungo i tubi. Questo ridurrà al minimo il rischio che si verifichino fuoriuscite di liquidi dai tubi quando si scollegano i due tubi. Ora è possibile rimuovere il canister. Innanzitutto rimuovere il tubo dal morsetto a strozzatura quindi premere le linguette di plastica trasparente su entrambi i lati della pompa e tirare scuotendo delicatamente per sganciare il canister. Una volta che le linguette rimuovono il corpo della pompa il canister si scollega. Smaltire il canister nei rifiuti clinici oppure secondo quanto disposto nella struttura sanitaria. Per ricollocare il canister ripetere i passaggi indicati all'inizio di questa animazione assicurandovi di fissare il tubo del morsetto a strozzatura sul retro della pompa, collegare i due connettori verdi, aprire i due morsetti del tubo e riavviare la pompa. Infine per garantire che la terapia a pressione negativa erogata sia sicura ed efficace la pompa Avanzola Adapt è dotata di tre allarmi audiovisivi per le condizioni di perdita, batteria scarica e ostruzione. Nel caso in cui si verifichi un'ostruzione o una perdita il sistema emette un allarme acustico, il simbolo corrispondente all'allarme si illumina e la pompa entra in modalità pausa. Il dispositivo continua a funzionare quando è attivo l'allarme di batteria scarica. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni stampate fornite con il sistema di terapia a pressione negativa Avanzola Adapt. Grazie a tutti. Grazie a tutti.